Le organizzazioni sindacali e i vertici aziendali di Teleperformance hanno firmato una richiesta congiunta di incontro al Ministero del Lavoro per cercare di definire un accordo in merito all'avvertenza che tiene col fiato sospeso i lavoratori delle sedi di Taranto, 1700 diretti e 100 a progetto e di via Priscilla a Roma del call center. Il precedente incontro del 2 luglio scorso presiduto dal sottosegretario Teresa Bellanova si era concluso con un non accordo e allo Stato i lavoratori sono soggetti alle condizioni precedenti all'intesa assiglata nel gennaio 2013 e scaduta il 30 giugno scorso. La multinazionale del call center ha paventato anche la possibile chiusura delle due sedi, attualmente in perdita, e chiesto drastiche misure di flessibilità con la riduzione dell'orario di lavoro da 33 a 20-24 ore settimanali con decurtazione negli stipendi. La richiesta congiunta per arrivare all'utilizzo dei contratti di solidarietà in attesa che si delineano interventi regolativi sul settore del call center è un risultato importante. Ora si attende la convocazione tra le parti dove verranno definiti i dettagli dell'accordo sull'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e sugli strumenti di gestione dei rapporti di lavoro in linea coerente con il contratto collettivo nazionale di lavoro.